È iniziata la nuova stagione di ciclismo, categoria Elite Under 23. In Bergamasca sono rimaste solo due società, tutte e due in Val Seriana. Andiamo a conoscere il progetto del team Mazzola e come sta andando la vostra stagione. Ma allora, questa stagione 2024, la nostra quarta stagione, calcolando anche di mezzo il periodo Covid, abbiamo iniziato la stagione a memoria alpolese, il 2 marzo. Ma la stagione sta andando abbastanza bene, nel senso che abbiamo una squadra giovane a contrario un po' di quello che è la categoria Under 23, purtroppo adesso, nel senso che la tendenza è quella di prendere gente, sì, giustamente anche esperta, ma tante volte, come numericamente, tanto esperta. Quindi trovare squadre che hanno primi, secondi hanno, è difficile, si stiamo muovendo bene, nel momento vi è in corso anche all'estero. Come sarà il vostro mese di aprile? Ma il nostro mese di aprile inizierà con una preparazione, nelle prime due settimane, quindi senza corse, per poi concentrarsi in 5-6 gare importanti nella seconda parte, tra cui spiccato di Nobiella, che sarà gara internazionale, parteciperanno anche squadre molto importanti, anche da Giro d'Italia, quindi, ecco, ci apprestiamo a far bene. I risultati dei professionisti non ingannano, nel senso che in Italia ha un movimento in difficoltà, e voi come lo state vivendo? Sì, tranne qualche sporadico caso, ad esempio, l'ho visto ieri al Fiandre, in Mozzato, però sono più lampi di singoli. Purtroppo il movimento è in crisi, e le ragioni sono tante, a partire da regolamenti, da sistema, e sono varie cose che si andrebbero sistemate. Noi vediamo il ciclismo come anche una scuola, quindi nonostante abbiamo ragazzi grandi, purtroppo ci arrivano appunto tanti di questi ragazzi che hanno poco insegnamento, a partire dalle basi, da come si corre, all'alimentazione, quindi è una costruzione di quello che è l'atleta, e poi vedere dove si può arrivare. Quali sono i vostri obiettivi, quindi? Allora, i nostri obiettivi, ovviamente, far bene, bene cosa si intende? Si intende quest'anno raccogliere qualcosa, quindi arrivare anche a qualche piazzamento, e però l'inizio stagione, ripeto, è stato incoraggiante, anche perché in una gara in particolare, nel corso in Svizzera, la Gran Premiera del Ticino, un paio dei nostri ragazzi si sono giocati i piazzamenti che contano da primi anno, quindi anche il resto delle gare, comunque siamo lì. Poi altre difficoltà, ci sono sempre meno squadre, ci sono sempre meno gare. Sì, purtroppo è un problema che parte dalle basi, nel senso che parte dalle categorie minori, perché ci mancano gli atleti all'arrivo agli Under 23, e di conseguenza mancano le squadre, manca la qualità, e manca numericamente il numero dei corridori, anche del sistema. E purtroppo questo è una cascata, che parte dagli Under 23, e pian piano, a mio parere, andrà a scendere, il junior, se lievi, vi dicendo. Ci sono anche le difficoltà della strada, noi viviamo anche in una zona dove tutto sommato è ancora possibile fare ciclismo, nonostante ci siano dei problemi. Sì, purtroppo è grave anche quello, adesso, visto che hanno approvato il nuovo codice della strada, col metro e mezzo di distanza, i ciclici speriamo venga applicato, nel senso che io purtroppo ho abbastanza perplessità, perché manca un po' la cultura della convivenza sulla strada, e quindi è un bel problema anche quello, che però, ripeto, con il senso civico si possono risolvere tante cose.